Cultivate i vostri sogni, credeteci. Io alla vostra età non sapevo ancora dove sarei arrivato, ma sapevo cosa volevo e mi sono impegnato per raggiungere i miei obiettivi. Lo faccio anche oggi che ho 39 anni, vi guardo e ripenso a me quando avevo la vostra età. Ha risposto così Alessandro Pierguidi, campione di automobilismo e pilota della scuderia Ferrari, ad una delle domande poste dagli studenti che hanno partecipato al teatro civico all'incontro organizzato dalla Compagnia Carabinieri di Tortona in collaborazione con il Comune con lo scopo di sensibilizzarli sulla prevenzione agli incidenti stradali connessi all'uso di alcol e droghe. Ingegnere e tortonese, cittadino del mondo, Alessandro Pierguidi è stato testimonial, insieme al giornalista di Quattro Ruote e Test Driver Andrea Stassano, dell'appuntamento intitolato L'arma che ho dentro, io ballo, non mi sballo, che ha visto anche la partecipazione del Comitato di Tortona della Croce Rossa italiana con la possibilità di simulare la guida sotto l'effetto di alcol e droghe attraverso speciali occhiali che annebbiano la vista, dando la percezione dello stato di alterazione. È stato il capitano Domenico Lavinia, comandante della Compagnia Carabinieri Tortonese, a ringraziare i presenti e le rappresentanze delle forze dell'ordine, per poi soffermarsi sulla legislazione vigente in merito all'uso e abuso di alcol e droghe quando si guida. Fra gli interventi in sala, dopo i saluti del vescovo di Tortona, Guido Marini, quello del sindaco Federico Chiodi, che ha sottolineato il tatto e l'umanità degli uomini dell'arma, al servizio dell'incolumità della cittadinanza tutto l'anno.